Siamo in una clinica per balbuzienti. La direttrice, una dottoressa bellissima, molto sexy, molto provocante, promette risultati eccezionali in soli tre mesi di corso. Alla fine dei tre mesi la dottoressa chiama a raduna i ragazzi e gli dice, allora ragazzi come sapete domani finiscono i tre mesi, ci sarà l'esame per stabilire chi è stato il migliore, quello che ha avuto i miglioramenti più alti di tutti e come saprete il premio è veramente tosto, praticamente due ore di amore sfrenato insieme a me. La mattina dopo inizia l'esame, chiama al primo, vieni, devi dirmi guarda nel modo più veloce possibile la città dove vivi. Mimì, 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 Milano. Eh no, non è che va granché. Avanti un altro, il prossimo. E tu per favore dimmi la città dove abiti. Rorò, 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 ma non è un granché neanche questo. Avanti un altro per favore. Tu adesso devi dirmi la città dove sei nato. E questo qui. Ascoli. Bravo, eccezionale. Hai vinto tu il premio. Lo porta di là nella stanzetta, fanno due ore l'amore in modo sfrenato in tutte le posizioni, le peggiori cose. Poi, alla fine, sfiniti, si guardano negli occhi e lui le fa pipì, piceno. Se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri, iscriviti al mio canale YouTube cliccando sull'icona qui a destra. Ah, dimenticavo. È gratis.